chi è che ha fatto l'osso scusatemi io ah ecco la si capisce passando dicevate prima adesso conosciamo il motivo del perfetto ora sappiamo il perché vuoi tornare di là si si e poi ce ne scendiamo giudando si chiude su farmland secondo me si doveva scendere verso l'amber allora va beh che noi ci siamo paracadutati parecchio lontani quindi proprio tanta tanta gente non dovemmo trovarne all'inizio ragazzo stiamo cercando di ecco stanno andando a prendere il lancio e se vieni ecco li rivedo da dietro aspetta ma io mirate sul lancio e no dietro al lancio ce n'è uno ha visto pure che le sto puntando e no io li dobbiamo pusciare qui l'altro sta ancora là dietro io mi sto avvicinando parecchio vittato uno lo curi per lo curi tu no io non ci sto a portata di tiro aspetta ecco ti si vede ti vede ti vede ti vede la terra e non ti muovo se la camerai diciascuno ruota la sinistra non me lo pinga ma qua dentro io è andato dentro l'edificio si ma ci stanno anche gli amici non ci sta solo lui eh ma io ne fattiamo un video lancio brava ecco la sulla scaletta la movimento e dai brava e dai brava mi è da prendere pure io fantasma eh cioè ma però non luce là tu se ne è scesa eh dov'è no è ancora sopra non luce là siamo in quattro uno c'è è ancora sopra 30 metri sopra si sto salendo dalla scaletta qua non me la pinga più abbiamo perso il bersaglio dove è finito è sul tetto non so se è sul tetto o sopra da me no su sopra qua è morta ah ok chi mi ha annientato è zizzi mi muovo di qua mi muovo di qua mi muovo di qua ragà qualcuno ha restato davanti al negozio si si craccato a terra c***a partita oh e dai muori oh lo uccidete per favore ah ci dobbiamo sbrigare e toglierci da qua eh macchina macchina ho preso la mano macchina che prendiamo via noi oh ragà qua c'è una macchina di fianco che non ci dovrebbe essere o mi sbaglio in movimento ragà però posso dire con il cavo sì vai vuoi non venire sì perché c'è questa macchina di fianco che non ci dovrebbe stare dimmi Gigi che c'è il bombardamento lo tiro in testa senti sembra che non sento nessuno per di qua no no deve andare proprio sul tetto devi uscire io mi guardo ecco lì è l'opisto contatto c'è un bersaglio faccio il bombardamento lo passiamo ci vedo che è il bombardamento ah è qui c'è un bombardamento ah è qui c'è un bombardamento ah vai vai atterra ah è bombardamento eh eh non ce l'è frate non è non è quello il punto dove l'ha atterra dove c'è un bombardamento quindi senza che mi ci fondate ah sinistra wow io sono andato a destra ragà sono andato sul sul negozio che è anche chiuso eh lì si è a sinistra ah ok ho preso un bombardamento così potete cecchinare oh cassa dorata l'altra sacca di corazza qui c'è una corazza voglio viatevi sti soldi viatevi una maschera qualcosa una maschera voglio ci servisse chiunque di voi si piasse una maschera qui c'è molto denaro arriva un lancio d'equipaggiamento passi passi cede avanti a me no veicolo leggero a disposizione ignorate pingo viola veicolo leggero a disposizione come sta disegnando come sta disegnando come sta disegnando eh aia prima ci abbiamo cecchini pure a sinistra secondo me è troppo strano che non ce l'abbiamo vuapi nemico in volo allora pingo viola in direzione di pingo viola più ultra simbaccati andiamo con questo in movimento oh eccolo qua ungo raga ok 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 esatto esatto ce l'abbiamo avanti aspetta aspetta andremo per di qua più giù a destra punto stai che camo preoccupano da sta zona ah madre si la dentro vai giù? aspetta che cambio posizione eccoci qua qua dentro stiamo safe copriamoci le posizioni io sarei andato sopra il palazzo pure sopra però dobbiamo salire subito se non vai se non muovete UAB nemico in volo si si ma sta cosa stiamo a fare fra le marette le mare qua c'abbiamo una bella un bel vantage ciò ma stai sotto tu aiutate qua mi muovo vado a fare il giro vado si sfogna il giro abbiamo cecchini qua qua qui c'è un bersaglio craccato 1 mi puoi atterrare non mi puoi atterrare attenzione si muoverà la si si avete visto dove stanno che ve lo pingate si 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 ci muoverò sotto di noi a 32 metri sotto di noi la pannaccio vedo un movimento fu ucciso sceso fu ucciso sceso si stanno sparando la sopra morto alziamolo subito alziamolo subito un rpg è arrivato da dove ah da la sopra stanno raga movimento eh stanno sui tetti raga stiamo messi male eh tieni questi soldi tieni questi soldi è sul tetto mannaggia uno davanti sta scappando però eh io c'ho quello sul tetto non mi posso muovere Gigi lo stai ruotando a destra vado mettiamo il servizio vado io sto qui eh ce l'hai sopra ce l'hai in testa gg va nientata sta uno da me mi metti qua oh da sopra da sotto da sopra cazzo Confermato mi sto piastrando fatemi copertura fatemi copertura C'è ancora quello sopra no 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 Mi sparava uno mi sparava uno mi sparava uno mi sparava uno qua da destra raga 27 metri no raga sta là No che succede no non ce la facciamo no da dietro un altro da qua qua uno raga No è da sotto a sotto con l'RPG non è morto ma come c***o ma dai ah ma dai ma dai ah dai doveva morire pure lui Dai non ero così distante mi era alzato da terra Grazie 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 Grazie